la mostra al santuario d'europa italia la grande bellezza bellezze italiane in mostra ad europa paesaggi architettura religione tradizione fotografate dal biella photo club la mostra sarà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 18 presso le sale della dottrina al secondo cortile del santuario d'europa a c a a a Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.